in live guys ah no paparaparapa paparaparapa ora inviti qualcuno, marco invita qualcuno, Mandesmo non deve giocare con noi eh ci è giocato a primo, ma sta giocando con gente del mio paese se ci riempi agli strumenti o di gioco del mondo in live, io vi vedo tu che No perchè sta il suo cugino e il mio compagno di classe Su cugino ok E che si fa? Sos? Sos? Io voglio liberare sto personaggio oggi Poi dove mi dà qualcuno? Gabri tu che hai molti amici? Guarda che io non ho amici Mazza molti amici No 18 e tu tutti mongoli Ma tu sei Scream non Gabri Ah Ok Ficcatelo in testa Però io mi chiamo Gabri che vuoi? No tu ti chiami Gabriele Eh Non è uguale Non è uguale Oh sono tutti in partito con un'altra gente Allora toglili dagli amici tutti Che amici di merda Va famo squad in tre Famo squad in tre Vinciamo i Zero Stars Eccolo Eccolo Air Derby Buonasera Buonasera Siamo in live Guise Giochi da playstation con mosse tastiera Sei un god Non so Lui è bello forte Mazza Anch'io ci giocavo con mosse tastiera superstation Prima non era semplice Quando moriva da me c'era il delay Ok E' vero infatti Usa mosse tastiera o joystick? Con joystick c'è un'altra volta Usa quello che ti pare basta e bing Ma facciamo squad splitto? No si Va famo normale dai Famo squad Ma fatemi bevare Vabbè famo squad splitto capito Sì 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 Dio boia Dio Cortello Salsiccia Che te ne fico dentro Facciamo io e Scream e Gabrielle Va bene E poi alla prossima cambiamo Va bene Ah voi volete fare voi due contro me e sgabri Contro non esiste contro Sì scusa Dai vi muto voi due Se no guarda GG Addio Squad split 2 vs squad Sì sì Dove non arriva a che? Non va bene Da split ci rivediamo Scusa camera Dai vi è mutato Risky reels Ma è lontano E' uguale Fa niente Ne hai mutati? Si Ma siamo a tempio tomato? Ma andiamo a tempio tomato? Ma che c'è frega Pensiamo al rapico suo Tipo che mi sa che c'ha 12 anni Il livello 100 Ma davanti Lo prenderei a schiavo Fra arriverò E sta a ritardo Che Ah porco Dici che conviene notare i container? Fra non ci arrivo Fra è morto allora E' posto Meglio così no Vado a fuori Vado a fuori Vado a fuori Vado a fuori Bella che ragazzo Caccia c'è spuglio Odio meta Siamo in solo verso squad di te Ho una jump però venga da te Eh muoviti Poi quanto le stanno a picchi acqua Faccio fare male di agente Qui c'è nere verde C'è un po' più di gente La Per il processo Non morire Ciao amico Ciao amico Ciao amico Ciao amico Ciao amico Non di quel po' di deciso Ah che belli sti balle Sii Amico shyamico Amico Fra se un r è blu te lo dodava c'ho il fox No Dammelo Io so il f channels Io so il fox Se v il fox home O siè A me si avvi tutto, non cazzo. Pozzaro a 50 qua, sulle scale. Io avevo fatto dei major pazzeschi, il portaggio. Dei major? D.C.S. Perché me l'hai chiesta? Why did you ask me that? Major, D.C.S. Un'altra di champ, a posto. Mazza, la moglieva a Tomato Town. Ma torniamo a Teppetumato. Fra, lanci il granato di viola. Va, andiamo, andiamo, andiamo. Teppetumato. Ma secondo me... Ma qui l'hai messa la jump? Sì, sapete vedere quella jump lì? Eh, è la tua? Vedete, c'è un nonno per me, grazie mille. Anche c'è un nonno. Meglio del tattico bianco, sicuramente. Fanno otto entrambi. Teoricamente dovrebbe essere più forte il no. Però non c'hanno zero kill, come a noi. La gente dov'è? Non lo so. Io atterro sul pomodoro e lo sparco. Boom, 100 di metallo. Gratis. Dai, non dimmi che ci sono già andati. Fra, ho io 3 medikit. Fra, c'è gente? No. È crashato. È crashato. È crashato, no. È crashato, no. È crashato, no. No, non può, è crashato, è sempre. Rip, mi sono messo squad, guys. Che, esser. Passer. Il vài. Calmo. Molto. datilo. è liquidata Raga mi sentite? Che va bene non è una gara Raga mi sentite? Ma dov'è morto quest'altro? Ero indeciso di perdere il caccia a posto di lancia granate Però lancia granate secondo me è più utile Dato che sono solo questo squad in questo momento Quindi vado a tirare lancia granate Pochissimo materiale quindi Gap è molto difficile Purtroppo gli altri non mi sentono Quindi non posso neanche di avvicinarsi Proverò Provo ad avvicinarmi al lore E vediamo un po' Forse mi è scritto anche su whatsapp Che bello E vediamo un po' E vediamo un po' Grazie a tutti. Ho una squadra davanti. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e... Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. e... 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 ... 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 ...... ... tornerà il nostro amico eccomi ci sei si scusa laghi ancora di ping non so perchè su ping ma ce l'hai spesso così alto hai spesso il ping alto? no no di solito sono 27 quanto è bella questa skin mi sono innamorato no però voglio consigliarmi soldi per le skin di ghi halloween scrim metti il suo ragazzo gioco aiutami cioè fammi sapere su discord in privato cosa ne pensi non l'ho ancora visto giocare non dimmi che lagha così tanto che non è neanche riuscito a intere in partita perchè davvero c'è da biangere ok perfetto ma meno male che sennò non ce l'hai da preoccupare ok figa manco io con la 7 mega di dieci anni fa riuscivo cioè facevo così bene sei? si si ci sono e allora aspetta che mi metto più sentino più eh dio buono comunque secondo me non ha preso molto seriamente il fatto del florino questo ragazzo beh per lui dato che non avevo spettatori gli sembriamo un team a casaccio ma in realtà siamo un team competitivo al 100% come qualsiasi altro team competitive quindi però la combina italiana è questa se non sei famoso sei un team di merda è così urbano cioè almeno così la pensano gli utenti vediamo come gioca vediamo lagga poi cioè scusate se lo però è un po' stupido che fa? è pieno di texture nonostante lui stesse lagando uno dice eh ma si che influisce perchè ovviamente devi scaricare i tuoi pacchetti però magari invece di pagare 100 magari ping 80 comunque sarebbe anche una cosa eh vabbè raga lagga è un casino lui però eh vabbè크 vabbè 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 ma che fa? non ha capito che si fa così che cosa sta facendo? ma è scemo avrà fede materiale eh lag è un casino regà lui però eh non può giocare così eh bro non ha lo materiale eh lag è anche tanto senti se vuoi il provino magari farlo un altro giorno anche domani e magari quando la connessione si stabilizza un po' no 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 si vuole un po' sparato facciamo una cosa, facciamo lo sfido di uno contro uno playground magari in playground pinga di meno tanto mi rendo conto come so giocare ma secondo me ho anche un pc abbastanza scarso ah Paco? si magari pinga di meno facciamo uno contro uno andiamo a tilted si fai da dall'inizio non vale lootare il loot dell'avversario il resto vale tutto tranne le cose che hanno tolto bouncer, negev e tutto ok bro invece tutto non mi chiama bro eh che ti conosce c'è la faranno i nostri eroi eh No, non ce la faremo mai Vai, fai pronto Cioè Non so se magari è lui con la vostra connessione Che non ci può entrare bene O è crashato del tutto Ah ok, per fortuna Dopo provo a spegnere i cittadini Dopo questa Dopo questa penso che vado a fare due con il team Non so perché non riusciamo a entrare Ma c'è un server in Europa Si Era in auto però il ping era a tren Comunque proviamo a mettere Europa C'è il microfono attivato Si La cosa è piena attendi Stai taggando un botto però E' sento, niente Io vado a riappare Magari provino a farlo domani Ok Va bene Ciao Ok Ok Andiamo a fare due last cream Ah Devo logare con l'altro account Voice Ah la tastiera l'ho scurata Si L'ho scurata Ah dovevo averla chiusa sul tutto Mi sa Si E' bene Però veloce però Che non ho molto tempo Tra 20 minuti chiudo la live Ti Asse Asse Grazie a tutti. 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 Oh, anzi no, i manager. Premi spazio per schierare picnic. Premi X to deploy webrera. Sono alto come una pigna. Sono alto come una pigna. E se nessuno è alto come una pigna. No, anzi no, anzi no, anzi no, anzi no, anzi no. Porca madonna. Oh, anzi no, anzi no. No, anzi no, anzi no, anzi no. Anzi no, anzi no, anzi no, anzi no, anzi no. Anzi no, 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 anzi no. Oddio. Cosa? Ballalo di nuovo. L'hanno fatto in sincro. Ballo nuovo. Nol. Tiltetops. Tiltetopers. Staccano il secco che stava a fare del talk show con Paolo. Sì, ma non rompere il cazzo. Io appena arrivano al feed di Power, sono il primo a scrivere il primo nei commenti. Ti è scritto ricambi. Ma perché mi sbaglio i viti? Sto nappo che mi ha dato il mio compagno in the class. Bum, ora sta guardando la live. Non sta guardando la live al 100%. Siamo della link. Semi-cheat. La link, dai. La... Fra, forse riesco a andare al centrale. Pennello, pisello. Fra, fra, fra. Fra, fra. Fra, fra. Fra, fra, fra. Tu entri da sopra, io entri da sotto. Sotto, damela. I need two weapons, I have all the pistol. I have trovato tassico. Dov'è il nonno? Ecco il nonno Dalla fine che sta fra Ah vai via Dino, tiri una pozzetta Oh non so dov'è però non mi interessa Sarà se c'era Non so dov'è però Fra Vieni È la madonna Un pro gay Aspetta dai vieni qua Da me da me No Fra 16 in testa Ti avevo chiamati però Palazzo C Te l'avevo chiamati palazzo C Fra io l'ho visti Stavo venendo con te Mi ha pushato uno 16 in testa 16 giallo con il nonno L'ho già attaccato E lui mi shot ovviamente Sì però Frai Te l'avevo chiamato Ma lo so Ma ora mi stavo venendo da te Soprattutto che poi Ho visto uno da dietro Mi veniva Lo so C'era con il testa Sì ma tu dovevi seguire E ti stavo conseguendo Mi fatti Sì ma mi seguire Mi è andato in testa Mi è andato in testa Mi è andato in testa Porca troia Devemo buttare le partite Sì guarda che stiamo in live Sì guarda che stiamo in testa Ma lo so Ma lei lo dice che Che è pesterniato Primo In testa Ma che vuol dire Nel senso che non devi giocare di merda Non mi fai una cazzo Sì io no Dai Faccio Sto in testa Copania Hai capito dove dobbiamo andare Certo RISCHI RELS Alle gatti Alle gatti Sì Sì Non ti dice Non ti dice Porca Mi sono quasi da troppe Sì 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 Mazzate Hai messo il puntino Per l'infettamento della casa Da Falgiata Sì E' le sghiere brother Beh ragazzi C'è pure un altro team Dai Sì 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 Guardi Sotto c'è Una pozzata 50 E una pozzetta per te Ci pusciano con il rapino eh Non c'è problema di me Fra non lo vedo Ora si Ora si Nooooo Nooo Non puoi farmi questo Non puoi farmi questo Gabri Non puoi farmi questo Nooo Non puoi farmi questo Una porca troia Sì Sì E poi ti bestemmiamo in sei lingui diverse In otto lingue In una pedaltina Anche Colpi picciotti Quanti ne hai? Colpi picciotti Ne ho 58 E ne ho 22 Che fai? Che fai? Cosa 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 fai? Ho 60 meriti Cosa fai? Cosa fai una pente? No E allora che cazzo? La faccio pure Devo ruttare Dai fra, andamolò Ci sto andando Andiamo verso il tempio tomato Tomato sempre? Anche perché non abbiamo un cazzo di arlo Io non scarto Io Io C'ho il re bianco Caffe, caffe Caffe Lasciami quest'albero Ma che buona Oh sì, mi devi mettere a blues Scolato La casa verde è tutta mia Stronzo Ti hai messo benissimo C'ho le armi di me R verde C'è una bozza da 50 Quanto la tag Tu non ero strato pure io Oh, non mi fai la bozza Mi scuba Oh, perché per sbaglio faccio Oh, ma che cazzo succede Mi switcha le granite da solo Mi hanno aggiunto una nuova cosa Se si spammo control Mi cambia La selezione Oppure gli è venuta la malattia al gioco Cioè, tu nella casa Tu dammi da retta blu Io giustamente ho la R verde Tu dobbiamo rifarmi Sì, ti limpa Sì, ti limpa Sì, sanno Ti limpa E' per sbagliare Sì, ti li piglio E' per sbagliare Sì, e' per sbagliare No, no, no No, no Eh, no Ma che è io ho due granate una vabbè hai volato quel palletto la goduria quando rompi il palletto 47 ho fatto camion di gelati ragazzi ora vi insegno come aprire come prendere il pomodoro per cazzo così uh double barrel shotgun a caso che lascerai a me beh cambiamo un po' per favore col cazzo te l'ho pure droppati bastardo non pensavo non pensavo me li dici perchè ti dico che è vero che è un po' un po' un po' che bastido e si chiudo la porta giustamente me l'aprono mi pare anche il giusto cioh c'ho ospiti in casa e devo aprire la porta porca malbosca che palle sono quattro chi? no ma fai dare per favore e se non c'è gente? non è che si fa così ti cagano si mettono paura se spari con lo scherro ma così mi clinappano fai paura se spari con lo scherro eccoli e tutto il loot lui se l'è pigliato tutti i gol vabbè questo è il giorno buono che ti lascio che cosa vuoi? il carto ci sei fattuto tutto vabbè io le si dammi il carto allora dammi il cliente e giro il carto io ho fatto una gill spettacolaris si che ha le granate esatto io ho appicciccato il carrello il carrello che kill del carto perchè stanno andando fuori safe e non c'è e non c'è ma non c'è ma non c'è ma non c'è quanti copi c'è è coi non c'è ecco vero che questi qua stavano dentro la casa col carto col carto vai vai parti 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 eeeh sei scemo che moda eeeh che mattina mannaggia ahahah ahahah non costruirai ma volco stavano in safe a posto non la pecca io andiamo al ponte vieni se ti becco guarda ma ne voglio faitare non c'è gente non c'è un carro tutto è camperare eeeh 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 c'è rompio quell'albero e ero full? no devi rompere con gli ac no no eeeh 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 c'è io coprimi in attimo eeeh c'è cristo eeeh eeeh forza vengono me la riaprono, ma porche bro io li schiaffi forza 50 io ho 15 band dai ma che fare io voglio fai dare e poi mamma sopra di noi al ponte si infatti allora questo è il giorno buono mi fa incazzare tu beh perchè tu lo fai a posta dammi tutti i medici ai è veloce pure dammi tutti tutti i medici ai che non ho 96 e subito veloce veloce ti ho detto a start no non ti aspetto tu c'è l'inferno instillato 3 kill su 5 lo scopriremo dopo lo scopriremo alla fine della prossima puntata ciao a tutti puoi sborre in un'azzurra colore ciao metto via 15 band vai e let's get bro ora ci dirai perchè hai fatto la solda uuh eri troppo ho fatto prima io dai mando dai tanto moriremo all'ultimo già lo so io sicuro ma è 100% anzi che meritiamo di morire perchè abbiamo fatto un game del cazzo e poi ci vengono tra i team addosso appunto appunto un cazzo ecco eccoli scherzo epico finito eccoli siamo morti sull'albero l'albero l'albero vabbè è giottato uno 72 fra io buscio quello che è stato no 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 sei shieldato no sei shieldato fra vieni veloce aspetta è sopra fra era bianco ho capito rompi l'altra scala rompi l'altra scala sta scendendo fra non fammi finire no ma costruire ti fa cagare al cazzo teo quant'avvità questo mi chio' ho 7 condiviso unuo soprattutto ecco